ZAR MC e Dario Nastro. Allora, per Dario Nastro è un ritorno, l'anno scorso hai cantato in italiano con successo, quest'anno hai portato un pezzo Wonderful World. Wonderful World, sì. È una canzone di James Morrison, molto popolare. Come mai sei caduto su un pezzo in inglese quest'anno? Per variare. L'anno scorso era in italiano, quest'anno in inglese. Per variare. Il prossimo anno è francese. Ecco, magari, ecco. Il prossimo anno la farò in Maddalenino. Ecco. Allora, ZAR MC, che poi si chiama Francesco, comunque lui è un cantante hip-hop, ha scritto la canzone inedita che si chiama C'è qualcosa che non va che parla dei problemi del mondo. Come ti è venuta questa canzone? Eh, perché sono abbastanza autocritico con il mondo, perché vedo che comunque ci sono un sacco di problemi che io, giovane, non riesco a risolvere e le persone che hanno potere non si impegnano per risolvere e cerco di dirglielo io in una canzone per vedere se riescono a capirlo. Anzi, talvolta le persone che hanno potere ce ne aggiungono di problemi. Ce ne aggiungono e comunque fanno finta che non ci siano. Loro che potrebbero fare, non fanno. E questo è tutto. Sta per iniziare la seconda serata del concorso Canoro dall'Isola Cantando. Io vi lascio la Maddalena TV, state con noi, seguitevi da Canoro, dall'Isola Cantando. Spettacolo abbinato ai festeggiamenti di Santa Maria Maddalena. Presenta Franco Wan con le musiche degli Havana. Buona serata. Grazie. Grazie. Un momento alle diventa brutto E invece quelli belli come noi che sono tanti A cantarla tutto il giorno vanno avanti Cantarla ci sta bene, ma proprio bene bene Chi non lascia cantare resta solo il lavoro che cosa fa Più brutto ancora diventerà E invece quelli belli come noi che sono tanti A cantarla tutto il giorno vanno avanti E quasi tutti quanti diventano cantanti E tu che sei sconato come un'ovra Un'ovra che fa qua qua Tu non dovresti cantare qui E invece di Qualcuno non ci crederà che si diventa belli cantando come noi E non sei bello come voi Tentare che ti costa Prova un po' cantare Diventerai bellissimo Diventerai bellissimo Se non canti tu rimani brutto E invece quelli belli come noi che sono tanti A cantarla tutto il giorno vanno avanti Cantarla ci sta bene, ma proprio bene bene Cantarla ci sta bene, ma proprio bene bene Chi non lascia cantare resta solo il lavoro che cosa fa Più brutto ancora diventerà E invece quelli belli come noi che sono tanti a cantarla allegramente vanno avanti a furia di cantare sentiamo stessa voce qualcuno forse dice adesso questi due se la fanno più e questa musica finirà e invece quelli belli come noi che sono tanti senza voce ma cantando vanno avanti e sono tanti e sono tanti e sono tanti allora ringraziamo il comitato festeggiamenti Santa Maria Maddalena che patrocina tutta la manifestazione poi naturalmente il comune di la Maddalena ha assessorato la cultura e il turismo fate pure tutti gli applausi che volete la Proloco chi non era qua ieri ha perso un'altra bellissima serata avevamo 18 cantanti in gara e sono stati eliminati 3 per oggi ne avremo altri 15 domani avremo una finale a 12 è una finale molto importante perché praticamente chi si classificherà tra i primi tre posti domani avrà la possibilità di partecipare nel mese di agosto alla finale del Festival Voci di Notte il cui vincitore andrà di diritto alla Sanremo Lab l'Accademia della Canzone Italiana gli auguri si fanno dopo a tutti i cantanti che fra poco vi presenterò però dobbiamo anche ringraziare il Vento, Radio Orcipelago che è la radio del Festival Gallura Informazione i ragazzi del Service 3M e poi dobbiamo ringraziare anche la televisione di la Maddalena che ci sta seguendo durante tutte le serate chi conoscete tutti la Maddalena TV? se non la conoscete ci penso io a farvi vedere cos'è la Maddalena TV adesso arriva a farvi vedere cos'è la mia musica, sport, spettacolo politica, rottura e tanto altro ancora la Maddalena TV.it una finestra aperta sotto la Maddalena TV.it la prima web tv isolare e questa è la Maddalena TV un applauso perché è una tv che è nata a dicembre ma che sta crescendo sempre più ed è una finestra nel mondo della nostra isola non avete idea di quanti telespettatori chiamiamoli così anche se poi sono i fruttori di internet e quelli che riescono a vedere la nostra tv ci mandano messaggi da tutto il mondo per dire grazie di portarci l'isola della Maddalena anche dall'altra parte del mondo allora ieri è stata una serata molto laboriosa per la nostra giuria che quest'anno è stata devo dire molto molto in difficoltà e però lo sapevamo abbiamo cercato di preparare i cantanti al meglio quindi è giusto che ci sia tanto lavoro vi presento i giurati di oggi che qualcuno è rimasto da ieri e loro si sono aggiunti nuovi giurati allora ringraziamo ancora in giuria Vincenzo Melone da Roma Lucia Martucci da Roma fate gli applausi poi si aggiungono questa sera Marco Farina e Marcello del Giudice che sono il duo Marco e Marcello che conosceremo meglio hanno appena pubblicato da pochi giorni il loro cd che si chiama EIA domani li conosceremo meglio e ascolteremo anche le loro canzoni poi abbiamo il Patti Garofalo attrice, regista, autrice, formatrice ed animatrice teatrale conduttrice di laboratori nelle scuole dei gruppi educativi territoriali del Comune Reggio Emilia invece lei la conosceremo dopo perché lei è un'attrice molto popolare quando ne parleremo vi ricorderete direte ecco dove l'ho vista e ne parleremo dopo poi che abbiamo ancora in giuria Patrizia Calori che gentilmente è ritornata con noi modella e moglie dell'ex calciatore Alessandro Calori che adesso sta per iniziare la nuova avventura con il Porto Gruaro con cui ha fatto un bellissimo campionato poi abbiamo Elena Barbati si aggiunge oggi organizzatrice di eventi culturali e di spettacolo curatrice ufficio stampa e pubbliche relazioni tra gli altri cura anche l'ufficio stampa del Teatro di Verdura di Milano Grazie a tutti Grazie a tutti